Musica generose dimensioni quindi non ha c'è i problemi eccolo qua si degasca si apre si e lo andiamo a lavorare là sopra dove è stato perduto stiamo cerrando molto bene ok tutto a posto secondo me lo dovrebbe aver già visto perché se no stava lì ancora in sistema un po' di più non c'è non l'ha visto non l'ha visto non so cosa dirgli non so come si fa andare giù c'è una brezzellina di raccordo lì dove c'è Giuseppe Giuseppe c'è una brezzellina di raccordo lì? eh sì ah ecco no 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 vedi l'ala al vento vedi come la tiene l'ala al vento attenzione ciao saluta al pubblico ciao ragazzi dove vai? di qua o di là? di su di giù? va al giro saluta a tutti ma là tutto uno indietro per me dove andare in là però decollerà leggermente ma no vento attraverso vai questa girata qui non è che è molto bella vabbè cambio d'angolo ok si si parte no bel suono no 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 bisogna scaldare l'olio che te esca dalle tacche rosse ed entri nelle tacche gialle eccolo qua ecco ecco già in volo e là e là e là e lì? no 5-8-2 no sono lì un 4-10 ma dove cazzo sono? da qua da un 9-12 ma vuole installare l'alto eh eh alte pressazioni ok 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 saluta ragazzi ciao salutate i vostri con la manina bene allora chi tocca? allora aspetta un attimo l'elicottero Bruno Giacomo vai autorizzato